La Pentecoste. Gli amici di Gesù erano riuniti insieme a Maria nel Cenacolo, quella grande sala dove avevano mangiato insieme a Gesù l'ultima cena. Erano chiusi a chiave lì dentro per paura dei soldati. Un giorno all'improvviso sentirono un fortissimo rumore come di vento. Molto spaventati si inginocchiarono tutti quanti e all'improvviso corparvero sulle loro teste delle fiammelle, delle piccole fiammelle di fuoco che bruciavano ma non erano appoggiate alle loro teste, erano ferme qualche centimetro più su. Era lo Spirito Santo che era sceso su di loro per dargli forza e coraggio. Pietro, l'amico scelto da Gesù per guidare la chiesa, uscì fuori e con quella forza e quel coraggio riuscì a parlare a tutti coloro che lo ascoltavano e tutti riuscivano a capire nella loro lingua. Erano molto sorpresi, non capivano come potesse essere possibile. Questa forza era data dallo Spirito Santo. Vi è piaciuta bambini questa storia? Pronti adesso per il lavoro? Ciao bambini, oggi prepariamo la corona di Pentecoste. Vi occorre del cartoncino di un colore qualsiasi. Delle forbici, una colla in stick, un foglio bianco, una matita e un righello, un colore rosso, un arancione e un altro che piace a voi. Ritagliamo una striscia di cartoncino alta 5 cm e lunga tanto per coprire tutta la testa. Poi prendiamo un foglio bianco e disegniamo una striscia alta sempre 5 cm con una fiammella in alto. Coloriamo la fiammella, scriviamo il vostro nome e poi lo incollate sopra la striscia di cartoncino. Infine chiudiamo dietro il cartoncino con della colla alla misura della vostra testa. Ecco la vostra coroncina di Pentecoste. Vi è piaciuta bambini? A presto per il prossimo lavoro!